Ciao ragazzi, benvenuti alla nostra prima lezione del modulo 4 del corso di italiano del centro di lingue oggi ragazzi il nostro tema è imperativo informale ok mi chiamo giuliana è un piacere essere con voi in questo momento allora vediamo un pochino di questo imperativo informale tanto utilizzato nella nostra lingua italiana si inizia questo tema vi insegno a fare una ricetta una ricetta molto famosa ok allora prendete una penna e il quaderno per scrivere questa ricetta che è squisita buonissima o deliziosa ok sono le espressioni ne ok usate in italia allora è gli spaghetti alla carbonara ok come facciamo gli spaghetti alla carbonara allora facciamo questa ricetta insieme è una ricetta tradizionale spaghetti alla carbonara una ricetta veloce ok e è una ricetta squisita deliziosa ok impariamo insieme a fare questi spaghetti alla carbonara sì allora stai calmo e mangia bene sì questa è una regola né italiana stai calmo e mangia bene impariamo insieme a fare questi spaghetti alla carbonara pronti per gli ingredienti sì sì allora 300 grammi di spaghetti due uova 150 grammi di pancetta 50 grammi di formaggio parmigiano e pepe nero ok questi sono gli ingredienti semplice vero allora questo è l'uovo singolare plurale femminile le uova ok allora due uova questa è la pancetta ok del maiale né allora la pancetta ok 150 grammi di pancetta buona la pancetta vero e qui abbiamo il delizioso e famosissimo formaggio parmigiano ok perfetto allora questi sono gli ingredienti vediamo ancora alcune informazioni su questa ricetta sì allora la difficoltà di questa ricetta è medio le porzioni rende quattro porzioni ok quattro porzioni allora va per quattro persone né qual è il costo molto economico tranquillo il metodo di cottura qual è il metodo di cottura fornello sì il tempo di preparazione cinque minutini velocissimo ok allora tempo di preparazione di questo squisito né piatto italiano di questo cinque minuti cucina italiana è il tempo di cottura 10 minuti ok anche molto veloce né ok la cottura attenzione ora prima cosa togli la pelle della pancetta d'accordo state scrivendo sì prima cosa è togli la pelle della pancetta seconda tappa taglia a pezzetti la pancetta ok allora taglia la pancetta a pezzetti è la seconda tappa di questa ricetta terza tappa soffriggi la pancetta in una padella ok queste sono le terze prime tappe per questa ricetta vediamo quarta tappa cucina gli spaghetti in una pentola con acqua bollente e un po' di sale ok quinta tappa batti due uova in una ciotola ok allora batti due uova in una ciotola sesta tappa aggiungi aggiungi metà della quantità di parmigiano nelle uova sbattute ecco allora nelle uova sbattute aggiungi metà di quella quantità di parmigiano d'accordo allora queste sono le sei prime tappe per fare questa ricetta settima tappa aggiungi pepe alle uova con parmigiano ok ottava tappa mescola tutto nella ciotola allora mescola tutto nella ciotola ok ottava ottava tappa mescola tutto nella ciotola nona aggiungi un cucchiaio di acqua della cottura per diluire il composto e mescolate ok allora questa è la nona tappa vediamo decima tappa allora diecima tappa è accendi il fuoco della padella con la pancetta ok allora questa è la decima tappa undicesima metti gli spaghetti cotti al dente sempre al dente nella stessa padella con la pancetta e mescola ok dodicesima tappa aggiungi il composto della ciotola uova sbattute parmigiano un po di pepe un cucchiaio d'acqua allora aggiungi il composto della ciotola nella padella e mescola ok mescola vediamo le ultime tappe tredicesima aggiungi un po d'acqua della cottura nella padella quattordicesima quattordicesima aggiungi l'altra metà di parmigiano agli spaghetti e quindicesima per finalizzare aggiungi un po di pepe ok ragazzi e buon appetito questa è la ricetta del famosissimo spaghetti alla carbonara allora fate questa ricetta a casa ok d'accordo? bravi e buon appetito attenzione all'uso dell'imperativo informale l'abbiamo utilizzato nella ricetta attenzione si usa sempre nel presente per dare ordine dare ordini scusate mangia la minestra un esempio e dare consigli prendi le chiavi di casa non sappiamo che ora torniamo ok allora dare ordini dare consigli va bene? e si usa sempre nel presente attenzione e quali sono le regole? le regole dell'imperativo utilizzando sempre il tu il noi voi o il tu negativo sempre nel presente allora iniziamo con parlare un esempio il verbo parlare tu parla noi parliamo voi parlate e il negativo utilizzando il tu non parlare ok? imperativo un esempio con un verbo con finale R come correre allora tu corri noi corriamo voi correte e il negativo utilizzando il tu non correre ok? imperativo allora un esempio con un verbo con la fine IR né? come aprire con il tu apri con il noi apriamo con il voi aprite e il tu negativo non aprire ok? perfetto ora abbiamo quel verbo irregolare finire è un esempio tu finisci noi finiamo voi finite e il tu negativo non finire ok? non finire va bene? nella nostra ricetta ragazzi abbiamo utilizzato alcuni verbi nell'imperativo esempio cucinare ok? cucina nel tu soffriggere nel tu soffriggi ok? tagliare nel tu taglia ok allora nella ricetta abbiamo utilizzato questi verbi ne? attenzione alcuni verbi italiani hanno anche la forma apostrofata nel tu allora impariamoli sì? andare che possiamo dire va ok? dare che posso dire da terzo fare che posso dire fa quarto stare che posso dire sta quinto dire che posso dire di ok? allora una irregolarità che abbiamo è anche col verbo avere e essere il verbo avere nell'imperativo tu si coniuga abbi leggiamo una frase come esempio abbi pazienza in tutte le cose ma principalmente abbi pazienza con te stesso ok? questa è una frase utilizzando l'abbi che è l'avere nell'imperativo con tu dopo abbiamo un'altra irregolarità che è col verbo essere nel tu è si vediamo un esempio si felice e sorridi sempre ok? questo è un altro esempio di irregolarità con il imperativo utilizzando il verbo avere e il verbo essere e abbiamo anche imparato che alcuni verbi possono avere la maniera la forma apostrofata ok? va da fa sta e di ok? perfetto si segue ragazzi abbiamo qui il nostro primo esercizio collega la frase nel modo imperativo all'immagine allora la prima frase che abbiamo è apri la porta quale immagine è per questa frase? apri la porta si bravissimi apri la porta dopo seconda frase pratica esercizi questa è la seconda frase bravi prima immagine pratica esercizi terza frase non fotografare seconda immagine non fotografare ok? negativo imperativo negativo canta di più quarta immagine ok? la nostra quarta frase allora questi sono alcuni esempi dell'imperativo ok? italiano vediamo un altro esercizio esercizio coniuga il verbo nel modo imperativo puntini 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 chiudere tu la finestra hmm? chiudi tu la finestra ne? allora chiudi la finestra con il tu dopo mangiare no puntini 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 molto no mangiare molto il nostro imperativo negativo leggere con voi il libro puntini 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 il libro leggete bravi leggete il libro puntini 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 a letto andare con il tu vai o va ne? che è apostrofato andare allora posso dire vai a letto posso dire va a letto ok? bravissimi dopo puntini puntini lavare noi le mani come come facciamo? laviamo le mani è una cosa che stiamo facendo molto in questo momento laviamo le mani ragazzi facciamo attenzione ultima frase puntini 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 salire tu le scale allora sali le scale bravi sali le scale allora è abbastanza semplice il nostro imperativo queste sono frasi cosa ho imparato oggi ragazzi? l'imperativo informale abbiamo iniziato con una ricetta buonissima di spaghetti alla carbonara abbiamo visto che l'imperativo si coniuga sempre al presente nel tu nel noi nel voi e nel negativo sempre con il non davanti al infinitivo non mangiare non correre non andare allora questo è l'imperativo italiano ok? ricordandovi che l'italiano è la lingua più dolce del mondo ok ragazzi? allora non esqueçam di acessare né as páginas sociali del centro di lingua no facebook no instagram ok? acompanhem né e acessem a plataforma eduq www.eduq.ac.gov.br 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 www.eduq.ac.gov.br